La Grange 12 è una residenza del 600 completamente ristrutturata multi brand del lusso con una superficie di circa 1200 metri quadrati distribuita su tre piani e aperta su cinque ingressi. Un fashion shopping torinese italiano ed internazionale in cui si troveranno i più importanti brand della moda. Insomma una sorta di hair roads in miniatura che laurerà definitivamente via La Grange come nuova via Salotto che sostituisce a pieno titolo la cara vecchia via Roma che si è trasformata per lo più nella mecca del casual. Sopra i negozi di lusso appartamenti in linea con questi brand rinnovati cercando di sposare forme antiche domotica e comfort d'avanguardia. Il recupero è frutto di una comunione di intenti made in Torino siglata tra building e pin in farina per il disegno degli spazi e degli appartamenti. Gli architetti hanno lavorato su una superficie di 3500 metri quadrati progettando sette appartamenti esclusivi, uno store di ampia metratura su due piani e due attici con terrazza panoramica sul cuore della città. Già tutti gli appartamenti, a parte uno ma non molto grande, sono stati venduti. Questo immobile qui per noi è stata una seconda opportunità per restituire la nostra città a un immobile totalmente ristrutturato, importante, abbinando come è nostro solito fare, ristrutturazione, restauro, arte e design. All'interno abbiamo collocato opere d'arte di alcuni artisti torinesi e abbiamo fatto tutta un'opera di recupero di questo patrimonio immobiliare.